uè non fare il tacco incacchiato da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone dai bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi molto velocemente la prima sfida interessante di questa settimana numero uno di fortnite ci chiede di trovare la f nascosta nella schermata di caricamento è davvero semplicissimo dovete semplicemente andare nella collina alla destra di lago languido questa collina e come vedete davanti a noi c'è la f quindi molto rapidamente con il tasto e quello per raccogliere la raccogliamo e completiamo la sfida io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando iscrivetevi ai canali noi siamo in live su twitch ciao vi ringrazio tantissimo per aver guardato il nostro canale